Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva, l'ultimo dato parla di 80 pazienti, mentre aumentano sempre di più i dimessi e i guariti. Soltanto nelle ultime 24 ore però ci sono stati nuovi positivi, 57, mentre i decessi sono 9, a cui vanno aggiunti altri 3 che non erano stati certificati nei giorni scorsi. Dunque 12. Ma facciamo il punto della situazione nel primo servizio. In scaletta, vediamo. 9 i decessi odierni registrati nelle Marche, ma in realtà quelli riportati nel bollettino delle 19 del Gores di Ancona sono 12, dato che sono stati aggiunti altri 3 casi avvenuti nei giorni scorsi e non riportati nei bollettini precedenti. 3 donne e 9 uomini a testimonianza che il virus ha fatto più vittime tra la popolazione maschile rispetto a quella femminile. 834, quindi, è il totale delle vittime marchegiane dall'inizio dell'emergenza sanitaria. 521 maschi e 313 femmine, per l'appunto di cui ben 456 nella sola provincia pesarese, che ha pagato il prezzo più alto in termini di vittime da Covid-19. Continua intanto lo screening della popolazione attraverso i tamponi, che hanno evidenziato 57 nuovi casi positivi nella giornata di oggi, sui 907 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche. Il totale dei positivi sale quindi a 5.826, su un totale di 28.000 test dall'inizio del conteggio. Dei 5.826 casi positivi sinora registrati, 2.333 sono in provincia di Pesero-Urbino, 1.737 nella provincia di Ancona, 922 a Macerata, 391 a Fermo, 271 ad Ascoli, mentre sono 172 i casi fuori regione. Salgono però anche i numeri positivi, arrivando a segnare quota 1.792 per i dimessi o guariti nelle Marche, mentre i ricoverati sono arrivati a quota 872. Diminuisce anche l'impegno delle terapie intensive. 80 attualmente sono quelli impegnati, di cui 10 a Marche Nord e 23 a Torrette. 560 sono in terapia non intensiva e 232 in area post-critica. Sono invece 2.340 i malati in isolamento domiciliare. Infine, completando la schiera di numeri, sono attualmente 7.770 i casi e contatti in isolamento domiciliare volontario, 24.571 in totale dall'inizio dell'emergenza Covid. 1.270 però gli operatori sanitari in quarantena. Questa dunque è la situazione. Allora, vi ricordo che tra poco parleremo anche del problema delle consegne e delle mascherine a Fano, che sta generando non poca confusione e polemiche. Di questo ne parleremo nel corso del telegiornale. Adesso invece parliamo delle carceri di Emilia, Romagna e Marche, dove ci sono 17 detenuti positivi al coronavirus, mentre tra gli operatori penitenziari risultano 49 casi e altri 10 tra medici e infermieri impegnati. Sono i dati, aggiornati al 16 aprile, che il provveditorato agli istituti di pena competente sulle due regioni ha fornito all'Unione delle Camere Penali. Il 14 aprile invece nelle carceri del distretto sono presenti 4.057 detenuti con un tasso di sovrappollamento pari al 129%. E più che trasportare e quindi diffondere il coronavirus responsabile della sindrome Covid-19, lo smog potrebbe avere un ruolo di amplificatore, potrebbe cioè peggiorare l'infiammazione causata dal virus. E' quanto emerge da un documento dei ricercatori dell'ARPA di Emilia, Romagna e Marche, che ha fatto questo studio insieme all'Università Politecnica delle Marche dell'Ateneo di Bologna. Adesso andiamo a Senigallia, dove è operativo il primo Covid Hotel, grazie alla sinergia tra Comune, Asur Marche e associazioni di volontariato. Questo Covid Hotel ospiterà 50 pazienti in convalescenza. Vediamo. E' il primo Covid Hotel delle Marche e non poteva che nascere in una delle città marchigiane più votate all'accoglienza turistica, Senigallia. Servirà ad accogliere una cinquantina di pazienti Covid, non autosufficienti per l'isolamento domiciliare, dimessi dalle strutture ospedaliere, clinicamente guariti, ma ancora positivi e quindi convalescenti. Il Covid Hotel servirà ad alleggerire e liberare così posti letto vitali per le strutture ospedaliere dell'area vasta e che quindi potranno così meglio gestire sia personale che strutture. Il sindaco Maurizio Mangialardi, con grande orgoglio, ha stilato nei giorni scorsi il protocollo tra le parti, con le associazioni che assisteranno i pazienti e la proprietà della struttura. Un esempio lampante di come la sinergia tra pubblico e privato produca benefici per la comunità ben più incisivi rispetto alle singole azioni. Beh, sì, un bel messaggio per l'intera regione. Il primo e per il momento unico hotel che ospiterà le persone che devono fare da una parte la quarantena e dall'altra la convalescenza. Il tema principale era proprio rivolto a questi, perché ci sono soggetti che sono clinicamente ormai guariti, ma non lo sono biologicamente e quindi devono attendere il doppio tampone negativo e per tante ragioni non riescono sempre a farlo nel proprio domicilio. E allora grazie alla Caritas diocesana di Senigallia, grazie anche a un gruppo di imprenditori e di cittadini che con un'associazione stanno pagando l'intervento e grazie anche, dico all'Asur, perché ha formalizzato il percorso per consentire di dimettere queste persone dentro una struttura dove i servizi sono garantiti da tanti volontari e da un percorso che ci permette intanto di scaricare i nostri ospedali. Dico nostri perché saranno interessati soprattutto quelli dell'area vasta 1 e dell'area vasta 2, perché Pesaro o Fano o Urbino che si trovano ancora in difficoltà per un numero di convalescenti che sono lì dentro, possono dentro questo meccanismo consentire di trovare un alleggerimento. Io penso che sia un grande segno per guardare la fase 2, perché significa, lo dico pensando ai nostri ospedali, le nostre coviderie possono essere ridotte e quindi gli ospedali liberati da quel segno e quindi recuperiamo spazi per le specialistiche che adesso dobbiamo pensare anche tanti malati che in questo periodo non hanno potuto fruire delle assistenze mediche ospedaliere o ridotte perché gli ospedali tutti erano impegnati su questo fronte e si ritorna al primo vero segno della normalità passa proprio attraverso gli ospedali. Non solo complimenti, battute di mani, ma agli operatori sanitari presto arriveranno anche i soldi. È stato firmato infatti nel pomeriggio l'accordo tra le regioni Marche e le sigle sindacali per destinare 20 milioni di euro come riconoscimento economico agli operatori sanitari impegnati da settimane nella cura dei cittadini colpiti dal coronavirus. Ora, afferma il Presidente Ceriscioli, si dovranno definire i criteri per assegnare le risorse agli enti del servizio sanitario. È un percorso complesso, prosegue il Governatore, ma necessario per riconoscere il reale impegno del personale in questa situazione straordinaria in cui ognuno ha davvero dato il massimo e molti sono al lavoro senza sosta fin dalle prime ore dell'emergenza. E se da una parte c'è chi lavora per curare i malati, dall'altra c'è chi continua ad uscire di casa senza un valido motivo. Nelle giornate di sabato e domenica le forze dell'ordine hanno sanzionato 87 persone con un totale di 1.800 controlli nella provincia di Peso Urbino. Un cittadino è stato denunciato per false dichiarazioni e sempre nel fine settimana sono state controllate più di 700 attività, ma senza nessuna violazione. A Fano è partita la distribuzione gratuita di mascherine agli over 65 e agli immunodepressi. In tanti però non sono riusciti a contattare la protezione civile perché le linee telefoniche praticamente sono state intasate tutto il giorno causando non poche proteste e polemiche. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla protezione civile Cristian Fanesi. La distribuzione questa mattina è iniziata come da programma in realtà anche venerdì sono state distribuite ci sono dei problemi telefonici perché noi abbiamo nel nostro comune 12.000 anziani over 65 senza contare le persone che hanno familiari immunodepressi quindi è impossibile rispondere a tutti. Il telefono c'è, funziona, le linee ovviamente sono limitate perché è impossibile rispondere a tutti però il telefono funziona e quindi l'attività è in corso. Stamattina c'è stato un gran via e vai qui al Codma presso il CB Club Mattei per la distribuzione di mascherine che comunque continua. È chiaro che visti i numeri, viste le esigenze noi consigliamo questo, di avere un po' di pazienza visto che in questo momento comunque non si può neppure uscire di casa di avere un po' di pazienza e riprovare. Ci sono anche degli orari e la distribuzione qui è aperta dalle otto e mezza fino alla mezza e dalle due fino alle diciannove dalle quattordici fino alle diciannove quindi è chiaro che un po' di disfunzione il primo giorno ce l'aspettavamo un po' di pazienza, rispondiamo a tutti, il telefono attivo chiamate solo quel numero e se proprio dovete uscire venite quassù a prendere le mascherine ve le danno sempre che comunque dobbiate uscire per fare la spesa questo è un messaggio. E poi è chiaro che in prospettiva il comune di Fano non può garantire mascherine una distribuzione così per sempre quindi tanto la diamo a chi ha bisogno a titolo gratuito poi per la fase 2 ovviamente dovremo reperire mascherine a un prezzo economico, distribuirle a tutti quanti i negozi le attività che sono aperte in maniera tale che si possa arrivare a una distribuzione capillare. E anche nel comune di Pesaro ha preso il via oggi e proseguirà anche nella giornata di domani la seconda consegna gratuita di mascherine le zone interessate sono Celletta, Cinque Torri, Santa Veneranda Villa Fastigi, Villa Ceccolini, Vismara e Villa San Martino saranno consegnate porta a porta da parte dei volontari due mascherine a persona anziani e malati e persone in difficoltà dice il sindaco Ricci potranno richiedere altre mascherine in più rivolgendosi ai referenti del proprio quartiere durante la settimana fa sapere il sindaco arriveranno altri carichi in modo da completare le consegne in totale ne saranno consegnate 230 mila a tutti i cittadini pannelli divisori e strisce di sicurezza anche negli uffici postali gli uffici postali si sono adeguati alle normative anticontagio si sta avvicinando la tanto attesa fase 2 della gestione dell'epidemia ma un vero ritorno alla normalità appare piuttosto lontano nel frattempo prosegue la lenta ripartenza del paese in attesa di nuove disposizioni dal governo oggi nella provincia di Pesero Urbino sono stati riaperti 13 uffici postali il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente modificato come quello dei locali di via Garibaldi a Fano per contenere la diffusione del covid-19 noi siamo rimasti sempre aperti è stato un ufficio che è stato sempre aperto abbiamo solo chiuso il turno pomeridiano dal 18 di marzo l'orario d'ufficio è dalle 8.20 alle 13.35 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì il sabato mattina è aperto dalle 8.20 alle 12.35 l'azienda ci ha fornito subito di tutti i dispositivi di protezione individuali e anche di gel igienizzanti sia per noi sia per la clientela inoltre per garantire le dovute distanze tra il personale e i clienti sono diverse le misure adottate la riapertura degli uffici postali della provincia di Pesero Urbino è stata possibile anche grazie all'adozione delle idonee misure di sicurezza come ad esempio l'installazione di pannelli di plexiglass e di posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscono il mantenimento di un metro di distanziamento interpersonale fra noi e le persone che entrano nell'ufficio postale in più hanno comunque nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini Poste Italiane invita i cittadini a entrare negli uffici solo per compiere le operazioni essenziali e indifferibili è importante poi indossare guanti e mascherine e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro sia all'interno che all'esterno dei locali Il Comune di Fano e Adria Bus fanno sapere che il servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale è attivo solo nei giorni feriali dal lunedì al sabato la domenica e i giorni festivi dunque le corse sono sospese L'azienda pubblica avvisa che non è possibile acquistare inoltre il biglietto a bordo ma solamente a terra per quanto riguarda gli abbonamenti invece si sta pensando a dei rimborsi oppure al loro prolungamento una volta che saranno riprese le attività scolastiche E adesso parliamo degli orti per anziani perché il sindaco di Fano ha firmato un'ordinanza che regola l'accesso agli orti comunali per gli anziani L'accesso è consentito soltanto a partire dal 24 di aprile fino al 3 maggio prossimo secondo un calendario predisposto dal settore servizi sociali L'ordinanza prevede l'accesso a turni per non più di due volte a settimana e il divieto di sostare fuori dagli spazi Gli anziani dovranno però essere muniti di guanti e dovranno mantenere le distanze di almeno un metro Restano invece chiusi i cimiteri ma resta valida la possibilità di dare ai professionisti del settore ci riferiamo in questo caso ai fiorai la possibilità di curare le tombe su delega E di questo parliamo nel prossimo servizio abbiamo intervistato oggi infatti una nota azienda della città di Fano che garantisce questo servizio appunto nei cimiteri per conto dei familiari I fiori accompagnano sempre un'emozione rappresentano un simbolo di amore, affetto, amicizia o gratitudine A volte basta un piccolo gesto per superare i tanti ostacoli che anche questa pandemia ci sta mettendo di fronte In un periodo in cui tante persone non possono dare neanche un ultimo saluto ai propri cari defunti il comune di Fano ha dato la possibilità ai florovivaisti e ai commercianti di fiori al dettaglio di curare le tombe per conto dei familiari Infatti per limitare la diffusione del virus i cimiteri continueranno a restare chiusi al pubblico fino al prossimo 3 maggio Sarà consentito l'accesso di parenti stretti per alcune operazioni come cremazioni e tumulazioni ma soltanto insieme al personale dei servizi funebri I fiorai invece potranno accedervi per sistemare le tombe e depositare mazzi di fiori o altre composizioni Sì, abbiamo cercato di offrire immediatamente il servizio delle consegne perché abbiamo anche disponibilità, come dicevo prima, del fiore reciso e purtroppo anche per gli eventi funebri magari poco ma si cerca comunque di fare un omaggio ai defunti e questo per noi sicuramente comporta un grosso sacrificio perché non è facile reperire sia la merce in questo periodo Cerchiamo di avvalerci dei fornitori che ormai sono da tanti anni che abbiamo e loro cercano di soddisfare le nostre esigenze Sicuramente come periodo, ripeto, è molto difficile sapere cosa ordinare e le quantità e farli anche arrivare perché poi non tutti i trasporti sono così facili Dall'inizio dell'emergenza il punto vendita situato a Chiaruccia di Fano è sempre rimasto aperto seppur con orario ridotto e un rigoroso rispetto delle procedure anticontagio Molte persone ci ringraziano, adesso più che mai in realtà ricevo tanti messaggi anche su Facebook e anche sul Whatsapp che abbiamo dato come numero telefonico della nostra azienda e sono veramente contenti, magari con poco però, di stare vicino ai loro cari sia per un pensiero, per una ricorrenza diciamo piacevole sia per altri eventi Il Comune di Pesaro informa che sabato 25 e venerdì 1 maggio tutte le attività di vendita di generi alimentari di prima necessità resteranno chiuse Il provvedimento riguarderà sia gli esercizi commerciali di vicinato che quelli di media e grande distribuzione, compresi i centri commerciali Rimarranno aperte invece le farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio In tanti, in questi giorni, tra le tante e mille domande che ci si pone appunto riferendosi a questa pandemia ci stiamo domandando quando finiranno i contagi Secondo la lista che ha stilato l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle varie regioni italiane nelle Marche la quota zero, zero contagio, arriverà molto tardi Le prime a liberarsi saranno la Basilicata e l'Umbria intorno alla fine d'aprile mentre le ultime risulteranno la Lombardia e le Marche, ovvero a fine giugno in Toscana e in Emilia-Romagna non prima della fine di maggio nelle altre regioni l'azzeramento dei contagi potrebbe avvenire già tra la terza settimana di aprile e la prima settimana di maggio nel Lazio dopo il 12 maggio queste le date entro le quali sarà possibile attendersi zero nuovi contagi secondo la mappa che appunto è stata fornita dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane coordinate da Walter Ricciardi e chiudiamo il nostro telegiornale questa sera facendo gli auguri a Mattia che compie 16 anni Mattia è di Colli al Metauro sabato scorso ha festeggiato come vedete in questa fotografia i suoi 16 anni insieme alla sorellina Arianna e ovviamente a tutta la sua famiglia alla quale ci uniamo anche noi di Fano TV e grazie dunque per essere stati con noi per aver seguito Occhio alla Notizia l'informazione tornerà domani mattina in diretta alle 7.45 con la rassegna stampa Occhio ai giornali a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento sul 17 Fano TV a voi tutti